Rimo Rapino, di ritorno da questa straordinaria esperienza, abbiamo tutti tifato per lei, ci racconti questa emozione, siamo qui e dietro di lei c'è la bellissima piazza di Lanciano che sta avendo successo ovunque grazie a lei. Sì, la piazza è il nostro campiello, c'è quei luoghi in cui i veneziani si incontrano, parlano, si raccontano storie, speranze, illusioni, forse imparano anche a volersi bene, io credo che ogni luogo, ogni piazza abbia questa funzione. L'esperienza è stata molto bella, è un viaggio bellissimo e vorrei così rifare riferimento a una poesia di Cavafis che si chiama Itaca, dove il poeta greco ci dice che quando si va verso Itaca non è tanto il problema di raggiungere Itaca, di approdare all'Isto, quando è piuttosto quello che si incontra lungo il viaggio. Il terreno campiello è stato un po' come Itaca, nel senso che tutto quello che è stato vissuto, le conoscenze che ho fatto, le persone che ho incontrato, le persone con cui ho parlato, i luoghi e quindi tutto questo è stato l'insieme in un'esperienza bellissima. Il primo pensiero che ho avuto in questa serata stupenda a piazza San Marco è stato per mio padre, è stato un momento di grande emozione e ho dichiarato che mi mancava la sua presenza, tra le tante presenze questo pubblico incredibile che riempiva la piazza. Quindi è un premio che ha rappresentato un bel viaggio e in questo viaggio ho visto tante cose che mi hanno arricchito e anche io spero di aver arricchito in qualche modo il viaggio. Progetti? Progetti adesso nell'immediato, il premio campiello comporta dei tour, dei viaggi, dovrò andare a Vicenza, a Padova, a Pordenone, insomma, nell'immediato. Poi ci sono ancora dei premi dove sono finalista, perché mi fa dimensamente piacere sia a Napoli che in Calabria, il premio Siria. Sono due premi molto importanti, oltre a Roma anche un altro premio, il premio Subiaco. Ora, no, no, queste sono le prime cose, dovrò poi fare vari interventi. Sto pensando, ma con molta lentezza, ad altro. Però Liboria è un'esperienza chiusa, finita qui, insomma, non è più ripetibile, sarebbe molto strumentale. Dovrò pensare a qualche cosa che verrà prima o poi, ho molte idee in testa. Spero che Liborio abbia un seguito, perché già Gifuli ne ha fatto un audiolibro. A livello di riduzione teatrale, addirittura qualcuno parla di film, io spero che trovi un'altra collocazione artistica, insomma, oltre alla scrittura. Questo potrebbe essere interessante come progetto che mi coinvolga in qualche modo. Grazie.